Ciao a tutti, sono Salvaterina e insieme a te ho una missione molto speciale. In questo periodo di quaresima ti chiedo l'impegno di rinunciare a qualcosa di superfluo e di mettere nella mia pancia i centesimi che risparmierai. Io li custodirò. Puoi chiedere aiuto non solo alla mamma e al papà, ma anche a nonni, zii, cugini, vicini di casa e tutti coloro che rinunciando a qualcosa ti daranno quanto risparmiato e tu lo metterai nella mia pancia così che diventi giorno dopo giorno sempre più pesante. Domenica 5 aprile, quando sarò bella pesante, alle ore 11 portami in chiesa Santa Maria Maggiore. Il contenuto della mia pancia sarà il tuo piccolo grande contributo per riparare il tetto della nostra bella chiesa. La casa di ognuno di noi, così che resti ancora per molti anni, bella e confortevole. Dai, iniziamo la nostra salvamissione! Un salvabraccio e un salvabbacio!